da un post facebook di mario adinolfi 30 agosto 2024 l'assassino di sharon verzeni si chiama mussa sangare e tutti ma proprio tutti i giornali e i telegiornali si affrettano a precisare alla prima frase è italiano in realtà e figlio di due emigrati centroafricani e la cittadinanza alla acquisita questo vuol dire che tutti gli emigrati e figli di migrati sono delinquenti assassini ovviamente no ma l'istintivo moto ideologico che pure su una insensata tragedia come questa fa prevalere la narrazione sulla verità perché si teme che la verità possa pregiudicare l'operazione politica di queste settimane che mira ad allargare le maglie della concessione della cittadinanza italiana a me fa parecchio schifo a me fa parecchio schifo